Intervistato da BT Sport, Drew McIntyre ha analizzato il 2020 appena trascorso usando queste parole, ovviamente tradotte e adattate in italiano. State a sentire. Professionalmente parlando è stato il mio miglior anno di sempre e ovviamente è capitato quando il mondo è andato sottosopra. Alla fine tutto questo mi ha permesso di responsabilizzarmi al massimo e di arrivare preparato ad essere l'uomo alla guida della federazione. Le pazzie e le foglie esperienze di questo periodo si sono sposate alla mia scalata verso il top. Il conquistare il titolo a Vrestalmania è stato ovviamente il momento più importante di tutti, ma è stato figo pure alla Royal Rumble con 40.000 persone sugli spalti. Vincere lì è stato inaspettato e poi è arrivato il trionfo incredibile contro Brock Lesnar, ma il risultato della rissa reale è fondamentale perché mi sono imposto dopo il ritorno di Edge e malgrado la delusione per la sua eliminazione come terzultimo. Lì i fan avrebbero potuto contestarmi, fischiare il finale, ma invece mi hanno sostenuto con l'entusiasmo che avevano prima. È stato magnifico, un po' come se stessero dicendo è lui il nostro uomo. La presenza dei tifosi in quella circostanza è stata da brividi e faccio fatica a non notare che oltre a vincere finalmente il titolo, pensando a come si è svolta quella Vrestalmania e a come la WWE sia andata avanti malgrado tutte le difficoltà, ciò che la compagnia ha fatto è stato importante perché ha influenzato positivamente così tante persone sparse per il mondo in mesi di grande incertezza per tutti.